ciao a tutti da maurizio benvenuti nella sede di gv spa a flero brescia luogo che consideriamo sempre molto accogliente grazie ai professionisti e tecnici che ci lavorano con i quali ormai da anni abbiamo stretto forti rapporti non solo di lavoro ma anche di amicizia perché siamo qua quest'oggi per scoprire quali sono le novità 2021 e come i tecnici hanno lavorato a testa bassa la rendi la comunicazione il marketing in questo anno comunque molto difficile per cercare di accontentare tutti gli appassionati quindi adventure touring urban classic davvero 360 gradi tutto il settore moto ad accoglierci come sempre con un grandissimo sorriso enrica visenzi figlia di giuseppe che fondò l'azienda nel 1978 enrica un anno difficile il 2020 che però vi ha visto davvero molto impegnati a testa bassa per progettare e produrre nuovi prodotti assolutamente sì buongiorno a tutti e grazie per essere qui oggi a tutto lo star di moto it sì il sorriso c'è il sorriso gamma per il 2021 givi nonostante l'anno sia difficile non si ferma anzi ha dato ancora più potenza al motore parlando di motori e siamo qui oggi proprio per presentarvi tutte le novità a 360 gradi perché con tanta passione tanta energia da mettere in campo ci impediamo ogni giorno per cercare di soddisfare i bisogni dei motociclisti grazie grazie energia che si si percepisce e a proposito di 360 gradi mi lasci in buone mani perché alla mia sinistra c'è anche antonio rizzini che definirlo dealer support è sminutivo lo considero davvero una figura poliedrica proprio a 360 gradi perché conosce la tecnica ma anche la filosofia che si nasconde dietro a tutti i prodotti che sono ormai tantissimi della gamma givi giusto antonio assolutamente sì grazie per l'introduzione adesso però adesso però dovrei subirti la spiegazione degli accessori che spero sarei pronto e spero che sarete pronti anche voi dai dai adesso andiamo a scoprire quindi gamma 2021 givi ricchissima accessori tanti particolari davvero sfiziosi per viaggiare in sicurezza ma anche comodi andiamo a scoprirlo ed eccoci antonio finalmente in mezzo alle moto dicevamo tantissime novità il segmento adventure non conosce crisi quindi è sempre più in crescita anzi e allora givi si è concentrata proprio su questo settore abbiamo due ottime rappresentanti quindi africa twin e teneret africa giù intanto che ci ricorda un video gettonattissimo che abbiamo fatto qualche tempo fa io e te quali sono le novità ma soprattutto spenderei anche due parole sulle novità tecniche ok ma anche su un nuovo modo di catalogare tutti i prodotti givi quindi per destinazione d'uso perché pensate ad ogni singola specialità ed ogni singolo motociclista giusto esattamente mai come negli ultimi anni l'intento di givi è quello di dedicare ad ogni tipo di motocicletta un accessorio specifico e se non riusciamo a creare un accessorio specifico per una moto perlomeno cerchiamo di accontentare dei segmenti di utilizzo delle attitude e come dicevi giustamente il segmento adventure è sicuramente quello più in crescita la nostra attenzione si è concentrata tantissimo in queste in questo tipo di motociclette negli ultimi anni tant'è vero che una moto sola non ci bastava per farvi vedere tutta la collezione di quest'anno e abbiamo dovuto metterne addirittura due fortunatamente mi hai fermato altrimenti ne avrei messe tre o quattro gli ho detto antonio fermati perché altrimenti non sapevamo dove mettere perché ne servivano forse tre o quattro per completare tutta la gamma tanto è vero che poi vi invitiamo ad andare a vedere sul sito tutte le novità però diciamo che le più salienti ce le mostra lui che maestro in questo quindi da dove partiamo allora io comincerei subito dall'africa twin che è sicuramente la punta di diamante del segmento del segmento adventure poi andremo a vedere tutti gli altri segmenti quindi quello sport e quello quello urban quello caffè rissere e sicuramente quello touring ottimo ma come dicevi giustamente visto che la nostra storia comincia con un video di almeno tre anni fa che ha avuto un ottimo successo riprenderei proprio da dove c'eravamo lasciati col modello nuovo di africa twin che ci permette di mostrarvi tutta la nuova collezione e visto che mi trovo in questa zona della moto partirei con la descrizione proprio delle borse che troviamo nella parte possibili della moto questa è diciamo la configurazione che potrebbe essere quasi a pieno carico per l'africa twin giusto esattamente ok direi che qui abbiamo cercato di mettere borse ovunque fosse possibile addirittura anche sul paramotore chiaramente abbiamo tantissimi litraggi che possono essere modulati tra di loro poi vedremo come e anche le borse laterali possono essere cambiate con dei modelli di backup con litraggi differenti e finiture differenti allora l'altra volta c'eravamo lasciati con l'africa twin che montava i bolletti di mini che comunque sono destinati per il mondo il mondo adventure oggi invece vediamo delle borse oggi vediamo delle borse materiali tecnico quindi morbide esattamente abbiamo cercato abbiamo pensato di offrire le stesse caratteristiche di sicurezza di resistenza di imprimabilità ma sicuramente sfruttando i plus delle borse soffici quindi la leggerezza la modularità la praticità d'uso e la praticità d'uso e io partirei proprio probabilmente con l'accessorio con le borse che probabilmente sono le borse più importanti che lanciamo quest'anno avremmo presentato ad eikman ma purtroppo le circostanze non ce l'hanno permesso e comunque questa è la GRT 700 la GRT 720 una borsa laterale venduta in coppia una borsa da 25 litri che forse alcuni di voi hanno riconosciuto come la sorella minore della GRT 709 che abbiamo lanciato circa un paio di anni fa questo vuole essere un restyling e anche una innovazione per quanto riguarda i materiali la compattezza e la leggerezza della borsa questa borsa da 25 litri ha le stesse caratteristiche della sorella grande quindi parliamo di poliestere di grandissima resistenza un poliestere anti uv con delle spalmature molto consistenti che sono da un punto di vista sicuramente estetico ottime ma anche da un punto di vista prestazionale chiaramente alla spalmatura oltre che estetica serve anche per dare resistenza meccanica al tessuto ma quello che probabilmente più interesserà ai motociclisti è la praticità in questo caso abbiamo voluto introdurre all'interno di tutte le borse una copertina anti acqua impermeabile giallo fluo quindi anche per una finitura estetica che può essere rimossa dalla borsa e chiaramente ricopre tutta la superficie interna quindi lo spazio è completamente sfruttato all'interno della borsa non ci sono zone morte la cosa più interessante è che funziona come se fosse una valigia di alluminio nel senso che arrivo in hotel fermo con la moto sfilo semplicemente la sacca impermeabile interna e posso lasciare la borsa sulla moto come se fosse un bauletto o addirittura visto che prendiamo i bauletti queste borse sono dotate di sistema di aggancio mono ok il classico quello che ormai è diventato uno standard da almeno 40 anni è stato il primo sistema di fissaggio che abbiamo che abbiamo introdotto nel 1983 e del resto se fai un prodotto che funziona perché cambiarlo è davvero molto semplice immediato e si è visto che tra l'altro questa è una delle domande che più spesso ci vengono fatte se valigie di 40 anni fa sono compatibili con le moto di oggi assolutamente sì assolutamente sì e questo ne è la dimostrazione e tra l'altro la cosa interessante è che il sistema mono che è nato inizialmente per le valigie di plastica per le valigie rigide ad oggi è utilizzato anche per le borse soffici lo vedremo dopo è un sistema che diventa trasversale un sistema che permette a un motociclista di abbinare la moto ai prodotti che più preferisce dalla plastica all'alluminio alle borse soffici intelligente e pratico perfetto riagganciamo la nostra borsa dicevamo quindi posso decidere di portarmela con me in hotel oppure di lasciarla sulla moto vincolata e mi porto estraggo soltanto la sacca che mi permette di andare con qualsiasi temperatura ma soprattutto con qualsiasi condizione climatica quindi pioggia freddo o neve spostandoci invece sulla parte posteriore notiamo un altro accessorio un altro oggetto che a me piace particolarmente che lo trovo molto pratico sostanzialmente io addirittura a volte lo leggo su moto che ho in prova con il ragno con degli elastici perché magari non ho il bauletto dedicato non ho il supporto dedicato troviamo la borsa o le borse trasversali posteriori sicuramente le borse soffici come dicevi sono quelle che meglio si abbinano all'idea di avventura l'idea di praticità di comodità in questa gamma ne abbiamo veramente di tutti i litri di tutte le forme in questo caso abbiamo sull'estensione della piastra abbiamo montati due accessori la borsa da 40 litri che in realtà faceva già parte della nostra collezione gravel che i nostri amici sicuramente conosceranno che da quest'anno si chiama canyon proprio perché abbiamo voluto rilanciare questa gamma introducendo delle chicche di cui dopo avremo tempo di parlare anche il nome canyon deve essere evocativo per richiamare questa idea dell'avventura il logo riprende il logo e la forma del canyon proprio per insomma per dare più più forza questa idea di avventura è chiaramente una borsa da 40 litri impermeabile con delle caratteristiche meccaniche estetiche di altissima di altissima qualità è un tessuto addirittura formato da tre layer ha un'anima centrale in nylon quindi che dà la resistenza con due spalmature una interna e un'esterna che ancora aumentano le caratteristiche meccaniche in più garantiscono un'ottima impermeabilità sopra la borsa ne vediamo un altro un complemento il t520 che non è nient'altro che un rullo da circa 20 litri in nylon ripstop quindi è super resistente super impermeabile che può essere modulato in questo caso modulato sopra 40 litri ma volendo può essere anche utilizzato come accessorio stand alone montato a sua volta sulla piastra sulla sella oppure su un altro accessorio che poi vedremo sulla o anche sopra le due sacche o borse laterali è assolutamente universale tra l'altro queste borse le trovo molto pratiche anche perché possono essere utilizzate non soltanto in moto possiamo utilizzare per andare in palestra per fare sport quindi davvero diventa un oggetto da utilizzare tutti i giorni benissimo adesso ci spostiamo direi sulla parte anteriore perché la trovo altrettanto ricca di accessori delle chicche comunque interessanti sia come accessori che come borse perché l'abbiamo detto abbiamo anche queste belle borse anteriori questa è una borsa che sicuramente qualcuno se la ricorda era la t513 la borsa da paramotore che viene assorbita dalla linea canyon proprio per la sua praticità abbiamo pensato di passarla a questo mondo adventure ridandole una forte connotazione che richiama però le borse che appena fatto vedere quindi si spicca il logo con le montagne con la scritta canyon i materiali rivisti per allinearsi a questa a questa gamma rimane comunque una borsa da paramotore con degli altri utilizzi rispetto al passato la borsa verrà venduta singolarmente non verrà più venduta in coppia proprio perché diamo libertà ai nostri utilizzatori di poter possa arredare soltanto un lato e non l'altro e sempre allineata questa linea abbiamo anche la borsa da serbatoio ricordiamo che per l'africa twin abbiamo anche le borse tanklo che ormai stanno diventando un benchmark sul mercato mondiale e non per questo ci dimentichiamo le borse con le cinghie in questo caso abbiamo preferito allestire la moto con una borsa con le cinghie ricordo che la borsa fa sempre parte della linea della linea gravel che da quest'anno ricordo si chiamerà canyon stessi materiali stesso concetto anche in questo caso è super universale super pratica ha una basetta che si fissa con le cinghie veramente un fissaggio da cinque minuti e la borsa si può sganciare dalla base con delle clip quindi è super comodo e velocissimo senti Antonio però facciamo un piccolo passo indietro perché così anche i nostri amici che sicuramente si erano fatti qualche domanda perché cerchiamo di mostrarvi tutte le particolari tecniche però non è sempre facile perché vanno anche viste un po da vicino la canyon le borse laterali hanno anche delle altre particolarità ovvero il logo è posizionato su una sorta di supporto paratia come vogliamo chiamarla che non è soltanto estetica ma è anche funzionale perfetto mai come in questa linea è quello che stiamo assistendo stiamo cercando di lavorare sul lato tecnico sul lato estetico allo stesso allo stesso tempo abbiamo un reparto design che lavora a stretto contatto con la rendi e cercano di portare avanti i prodotti non solo per la parte soffice non so per le borse soffici ma anche per i bauletti quindi il prodotto deve essere estetico e funzionale la funzionalità deve essere estetica e l'estetica deve essere funzionale ecco ci spieghi come funziona questa parte esterna questa patella che sembra semplicemente un capriccio estetico in realtà è una patella in ipalon che è un tessuto molto resistente che tra l'altro ha questa finitura molto accattivante sembra sembra quasi velluto ma è molto resistente resistente ai graffi e come si può vedere è dotata di alcune cinghiettine sul lato che permettono di allargare e quindi creare un extra cargo sul lato della borsa per un eventuale appunto extra cargo oppure addirittura visto che le borse nascono con l'idea di sostituire le valigie di alluminio se per caso accidentalmente la moto dovesse cadere ho visto che la moto è pensata per strade bianche questa parte evita preserva la borsa esattamente si evita graffi o diciamo che la borse si possa rovinare tanto questa è proprio la bellezza anche di queste borse rispetto alle borse rigide che posso posizionare anche piccoli oggetti guanti mi sono fermato l'utilizzo proprio come una vera e propria tasca dove posiziona alcuni oggetti però antonio ci ha permesso di capire che non è soltanto estetica e praticità ma anche proprio in caso di caduta perché queste sono moto che devono fare anche in strada però givi nasce come produttore di accessori lo sappiamo tantissimi anni di esperienza e anche sull'africa twin non hai risparmiato di posizionare ovviamente qualche accessorio interessante pensato proprio per questa moto ma poi anche estendibile ad altre moto adventure le borse che sicuramente sono bellissime coprono in realtà la nostra anima abbiamo cominciato nel 1978 proprio con dei paramotori con della carpenteria e soltanto sei anni dopo nell'83 84 abbiamo cominciato con dei bauletti il primo bauletto l'E34 monochie gli accessori che abbiamo scelto per oggi sono le abbiamo pensati proprio per poter parlare di alcune caratteristiche importanti come dicevo anzi rimuovo subito la borsa ne approfitto per parlare di una particolarità potrebbe sembrare scontato e banale parlare di un supporto per valigie laterali visto che ne produciamo da quasi 40 anni in realtà negli ultimi due anni si sta assistendo a una forte razionalizzazione della gamma dei nostri dei nostri attacchi stiamo cercando il più possibile di rendere il nostro catalogo di far digerire il nostro catalogo al nostro utente finale ci rendiamo conto che con più di 1500 accessori che devono diventare sempre più specifici e le moto sono sempre più dettagliate diventa difficile riuscire a far digerire la nostra intera gamma soprattutto di supporti sui telai laterali stiamo appunto lavorando per rendere il telaio il più universale possibile da un lato abbiamo sempre cercato di offrire telai specifici per tipologie di valigia voglio dire valigie di plastica avevano un telaio le valigie di alluminio avevano un altro tipo di telaio da due anni a questa parte i telai sono stati unificati abbiamo creato quello che si chiama PLO un PL universale che fondamentalmente si basa sulla stessa cornice quindi sullo stesso tubolare che viene semplicemente configurato con i punti di fissaggio per le valigie monokei che sono i tre punti di fissaggio famosissimi oppure la stessa cornice ma configurata con i punti di fissaggio per le valigie di alluminio noi venderemo il telaio già configurato all'utente finale ma l'utente finale potrà decidere in un secondo momento di acquistare i supportini come ricambio e cambiare stile alla moto mantenendo la stessa cornice e penso che sia una cosa diciamo che sicuramente agevola anche il vostro lavoro perché avete magari una anche gestione poi di tutti i mille pezzi più semplice ma poi si traduce davvero in una doppia vita per chi acquista il prodotto quindi ho lo stesso bauletto borsa da 30 anni ma posso cambiare il telaio oppure uso lo stesso telaio e compro una borsa nuova una borsa diversa quindi chapeau bravi ma non solo non ci siamo fermati qui perché questo telaio è stato scelto anche per ricordare ai nostri amici che dal 2008 si ricordano benissimo che produciamo dei telai che si chiamano a rimozione rapida una R nel codice che è rimozione rapida per filosofia abbiamo sempre scelto di vendere i telai già configurati con questo sistema rimozione rapida da oggi i telai di nuova concezione verranno venduti così come questo venduti con viti dadi bulloni per avvitarli alla moto ma acquistando un kit aggiuntivo quindi il cliente potrà decidere in un secondo momento può trasformare autonomamente il telaio standard in telaio a rimozione rapida di modo che quando uno non usa la borsa e vuole la moto pulita perché chiaramente poi la moto è sicuramente per l'avventura ma è anche il lato estetico non è da trascurare rimuove il telaio rapidamente con delle viti a gancio rapido è molto semplice e il kit è acquistabile separatamente bravi anche perché alla fine queste moto poi lo sappiamo vengono anche spesso utilizzate nella guida di tutti i giorni quindi faccio sì avventura ma poi la devo usare anche durante la guida durante la settimana quindi come ti dicevo non solo l'estetica ma anche funzionalità sono le nostre parole d'ordine alla fine serve parlare con Antonio perché un mero catalogo non ci avrebbe permesso di capire queste cose bisogna parlare con i tecnici grazie Antonio allora dicevamo tanti accessori quindi abbiamo anche paramotori ormai paramotore, supporti, navigatori o smartphone paramani sicuramente ci sono alcune parole da spendere sul paramotore che è come dicevi innanzitutto è quello che ci ha lanciato nel mondo degli accessori per le moto nel 1978 la parpegna dei paramotori si è espansa tantissime negli ultimi anni in questo caso sull'Africa Twin vediamo il paramotore alto e il paramotore basso perché abbiamo cominciato a produrne di due diversi dall'Africa Twin dal video che avevamo fatto l'ultima volta in questo caso il paramotore alto si può montare solo in abbinamento al paramotore basso perché sono collegati uno tra di loro sempre come protezione abbiamo il il paracarter in alluminio 5 mm alluminio nodizzato quindi anche in questo caso è anche estetico e salendo chiaramente i faretti il paramani che questo in realtà è un'estensione del paramani originale anche questo è in ABS montato sul paramani originale della moto e tutta questa parte poi nasconde poi tutti gli accessori che si possono montare sul manubrio o sul ponticello in questo caso stiamo montando una pinza universale per gli smartphone bellissimo parabrezza ovviamente parabrezza chiaramente anche lì ne abbiamo come sempre fumetti trasparenti alti bassi sportivi neri opachi senti però va bene l'Africa Twin moto grosse però lo sai che è più nelle mie corde l'avventura con una moto un po' più snella un po' più aggressiva e quindi arriviamo alla tenere di Yamaha che tra l'altro monta delle borse e accessori davvero sfiziosi e interessanti per chi ama magari la guida un po' più tra virgolette sportiva l'abbiamo lasciata per seconda proprio perché è quella che la moto che ci permette di farvi vedere le chicche che vengono introdotte da quest'anno quelle che ci hanno suggerito di riprendere la linea gravel e di trasformarla in quella che oggi si chiama linea Kenya scusate se insisto su questa cosa ma davvero per noi è molto importante perché da un lato abbiamo sempre cercato di fare accessori per il turismo ci sono quelli che ci hanno caratterizzato negli ultimi 40 anni ma vogliamo approfondire alcuni accessori tipo quelli del mondo adventure o quelli del mondo sport nella linea canyon lanceremo questo questa base universale che viene montata sulla coda della moto e in una maniera molto semplice guarda la tiriamo anche un po' dietro così magari riusciamo a vederla meglio cosa dici sì sì assolutamente io alcune borse le ho lasciate montate ora un lato della un lato della base l'ho lasciato libero proprio per far vedere come funzionava e poi ho fissato due borse ma andiamo con ordine allora la base riprende gli stessi tessuti della della linea canyon quindi sono nylon con delle spalmature molto molto consistenti per dare tenacità al materiale il sistema di fissaggio è di una rapidità incredibile sono delle cinghie universali possiamo farlo vedere anche da qua magari se riusciamo a rimuoverla bisogna rimuovere la borsa laterale anche in questo caso come si può vedere il sistema è rapidissimo sono veramente una patella con delle clip allora questa è la base che si fissa alla pedalina sul lato sinistro dall'altro lato la pedalina sul lato destro con due cinghie universali e uno sul posteriore che va fatto passare sotto la coda delle moto questo permette di utilizzare delle borse su tutte quelle moto veramente adventure pensate davvero per diciamo per un utilizzo estremo che non hanno il portapacchi e uno non vuole montare un bauletto d'alluminio chiaramente perché è ingombrante perché è pesante e perché da poca stabilità alla moto questo ci permette di poter sfruttare tre zone di carico sulla sulla base una sul lato sinistro una sul lato destro e una centralmente sulla serie della moto quelle due laterali hanno semplicemente una una patella che è questa che ha due clip che si chiudono lateralmente più una terza clip che abbraccia il prodotto quindi sostanzialmente posso mettere anche l'altra borsa che mi hai mostrato il 40 litri forse un po grande però l'altra sacca o un prodotto che ho già o qualsiasi altra cosa il tappetino la tenda perfetto in questo caso noi l'avevamo abbinata con il nostro 20 litri della linea canyon come come laterale anche in questo caso i tessuti sono sempre nylon con la doppia spalmatura e la valvolina per lo sfiato dell'aria e centralmente l'abbiamo abbinata alla borsa che prima abbiamo visto sull'africa twin ma montata sul paramotore e questo è stabilito proprio dal fatto che come ti dicevo la borsa adesso la condiamo come singola perché si può decidere esattamente dove uno si preferisce montare sul paramotore o in questo caso sulla sulla coda della moto idea anche furba perché in effetti arrivo a destinazione non voglio mai riportare un passeggero perché poi la moto rimane cioè parcheggio le borse ma voglio fare un giro per il centro città posso portare comunque il passeggero perché alla fine l'ingombro davvero minimo e posso comunque caricare qualcuno nella parte posteriore e come abbiamo visto e visto proprio rimuovere la borsa è stata un'operazione da cinque secondi sono due clip laterali più quella da sotto che serve per abbracciare il prodotto per non farlo cadere verso il basso perfetto adesso spostandoci come abbiamo fatto per l'africa twin andiamo dalla parte posteriore verso l'anteriore dove troviamo comunque altrettanti prodotti troviamo per aumentare il carico ma anche poi la praticità di utilizzo come per esempio il supporto per gli smartphone troviamo la sorella piccola della borsa da serbatoio che abbiamo visto sull'africa twin configurazione a 6 litri anche in questo caso fissata con delle cinghie universali che si possono rimuovere con le clip quindi è un sistema rapidissimo doppia chiusura vedo doppia chiusura questo perché perché il tessuto è vero il tessuto un tessuto impermeabile perché ancora una volta doppia spalmatura però punto il tallone d'achille di tanti prodotti la zip può essere fatta può essere una strada ci sono però la zip comunque per come è fatta avrà sempre uno spazio tra una maglia e l'altra per far passare l'acqua quindi cosa abbiamo pensato di fare abbiamo fatto questo guscio superiore che non fa nient'altro che coprire la zip laterale per evitare appunto che l'acqua possa entrare abbiamo sfruttato questa diciamo questa cupola e l'abbiamo abbinata a questa parte trasparente dalla quale si può accedere dall'interno per i vecchi romantici che preferiscono ancora usare una una mappa o inserire ancora una volta uno smartphone o qualsiasi cosa e questo ci porta direttamente a un mondo infinito che è quello dei supporti porta smartphone uno ce l'ho qua in mano ne abbiamo addirittura due in realtà montati sono uno il fratello dell'altro rimuoviamo la borsa così magari riusciamo anche a farlo vedere allora partiamo dai supporti allora abbiamo una collezione una collezione infinita di supporti che possono essere agganciati sul manubrio tubolare sugli specchietti sui traversini sia originali questa moto per esempio esce con un traversino originale noi altrimenti usciamo con la nostra versione di traversino chiaramente a seconda della comodità a seconda dello spazio si può decidere dove fissare il supporto in questo caso abbiamo voluto sfruttare lo spazio sulla pompa dell'olio con due prodotti sono diciamo uno il fratello dell'altro questa è la prima versione che già abbiamo presentato l'anno scorso è una versione che sta anche molto attenta all'estetica quindi se da un lato la base è la stessa è una base di acciaio il supporto in questo caso è in alluminio nodizzato quindi anche per chi è attento al lato estetico da quest'anno lanciamo anche probabilmente non è il prodotto che meglio si abbina a questa moto ma era bello farlo vedere qua sarà un prodotto studiato sicuramente per scooter o comunque per moto di un calibro minore il supporto è lo stesso ma in questo caso in nylon quindi ci permette di avere un prodotto cost effective per ottimizzare insomma i costi cosa si può fissare su questo? si possono fissare tutti i portacellulari che abbiamo in produzione fino ad oggi ne abbiamo addirittura sei specifici dall'S95234567 in più da quest'anno lanciamo l'S958B che è la versione riveduta e corretta dell'S957 ha una capienza maggiore per accontentare tutti i cellulari nuova generazione abbiamo incluso una finestrella trasparente posteriore per poter utilizzare la telecamera del cellulare anche quando il cellulare è inserito all'interno e il materiale della plastica trasparente è molto più sottile rispetto al passato per essere compatibile anche con gli schermi capacitivi più delicati bellissimo bravi senti poi come dicevamo per l'Africa Twin ovviamente altro cavallo di battaglia i parabrezza che in questo caso vedo anche tra l'altro anche qui in doppia configurazione quindi centrale più deflettore il deflettore non è uno di quegli accessori non è un accessorio di cui abbiamo una famiglia vastissima a catalogo abbiamo cominciato recentemente a spingerli stanno funzionando molto bene sono venduti separatamente dal parabrezza centrale e danno ecco alla protezione laterale su alcuni tipi di moto è molto interessante bene allora Antonio grazie adesso però direi che conclusa la linea adventure dobbiamo parlare di touring e sport non abbiamo finito quindi adesso parliamo a tutti quelli che invece hanno una moto un po' più sportiveggiante o da turismo giusto? esattamente allora andiamo a scoprire le novità 2021 di Givi anche per loro ed eccoci Antonio a parlare a tutti gli appassionati di moto sportive o touring perché abbiamo la Sport T-Line è pensata proprio per moto come la Kawasaki Z650 giusto? giustissimo io avrei voluto avere più di una moto però visto che ne hai lasciato ci accontenteremo di una moto sola lo devo sempre contenere che altrimenti ci porta tutto il campionale è un attimo è un attimo ti chiederò se poi mi darei una mano per far vedere altre borse che abbiamo nascosto dietro la moto farò da valletta grazie mille però ecco direi che la Z650 si presta in maniera direi perfetta per far vedere ai nostri amici la gamma Sport T la linea Sport T qui vediamo che alleste completamente la moto abbiamo le laterali, la borsa da serbatoio, la borsa da sella ma comincerei appunto dalle laterali dalle ST609 le nostre borse laterali semirigide per la linea Sport T abbiamo scelto dei materiali che ancora una volta ottimizzano l'estetica e la funzionalità delle borse il tessuto termoformato in questo caso è eva è una spugna termoformata ci permette di dare queste linee molto marcate alle borse quindi vediamo queste nervature le borse diventano più affilate più avvolgenti per la moto richiamano appunto le linee delle moto sport sì, linee morbide però con linee abbastanza nette in effetti sono anche molto belle da vedere l'intento è proprio quello come sempre ottimizzare il lato estetico con quello funzionale le borse laterali forse sono quelle che meglio si abbinano a questo tipo di motociclette le ST609 sono borse laterali che si abbinano ai nostri telaiati di tipo TE noi abbiamo una collezione infinita per tipi diversi di borse in questo caso i telaiati di tipo TE borse ST609 da 20 litri sono anche espandibili esattamente in massima espansione possono contenere anche un casco chiaramente per comodità hanno sempre la maniglia per il trasporto sono assicurata il telaietto da una chiave che ci permette di agganciare e sganciare la borsa in maniera rapida in maniera semplice ma in maniera sicura e hanno anche in dotazione chiaramente una cinghia per poterle far diventare borse tracolla quindi sostanzialmente anche per riagganciarla vado sul telaietto inferiore l'aggancio con quello superiore e poi la chiuso esatto in questo caso non c'è il pulsante di sgancio come i bauletti di plastica ma era per rendere il tutto più estetico e il più minimale per non deturpare l'estetica della borsa poi come dicevi giustamente te c'è la possibilità di espanderla quindi di aumentare il volume grazie a questa cerniera c'è una zip esatto perimetrale che ne aumenta l'espansione e l'interno comunque come vedi è super rifinito come se fosse proprio un trolley da viaggio quindi ha la retina per il carico laterale poi ha questa retina, questa 3D mesh che serve come taschina supplementare per il coperchio e senza poi tralasciare tutte le finiture estetiche tutte le impunture rosse ma anche la zip è stata studiata appositamente per questa linea di borsa vedi che è una zip molto più sì sì un po' più aggressiva rispetto magari a quelle a vento quindi anche il dettaglio non è lasciato al caso ganci superiori perché così in effetti se io voglio agganciarla adesso vediamo se riesco anche da questo lato Mari dammi una mano tu ecco vediamo anche i ganci superiori in modo che possa attaccare quello che tanto io apprezzo il ragno che mi permette magari di fissare qualcosa di provvisorio ma proprio per chi ha necessità di carico supplementare abbiamo in realtà in questo caso abbiamo scelto una borsa nuova è la ST610 è una borsa che nasce con un sistema che ormai è diventato famosissimo il sistema Tanklock che tanto è stato apprezzato per il come diceva il nome Tanklock per il riserbatoio delle moto tanto apprezzato tanto che i nostri clienti ci hanno chiesto di renderlo il più universale possibile per renderlo il più universale possibile abbiamo pensato di introdurre un accessorio che vendiamo da maggio di quest'anno che è il seat lock che non è nient'altro che un piattello in nylon fibra di vetro quindi lo stesso materiale che utilizziamo per le piastre dei bauletti dotato di due cinghie che possono essere fatte passate in questo caso sotto il sellino della motocicletta ma volendo anche sulla piastra oppure su un portapacchino questo ci permette di riportare il sistema Tanklock e di utilizzare una borsa Tanklock che nasce per il riserbatoio ma può essere questa volendo sì la scusa è stata anche quella di introdurre un modello che avesse le linee proprie della sella della moto quindi questa proprio nasce con l'intento di essere prima sella e poi volendo anche borsa da serbatoio ecco adesso Antonio anche un'osservazione un po' provocatoria però sostanzialmente io potrei utilizzarla anche come borsa da serbatoio magari è meno pratica perché questa ha la possibilità di avere lo smartphone a vista però diciamo che se ho questa posso utilizzarla assolutamente in entrambe le pinna libertà le funzioni e tra l'altro correggimi se sbaglio le borse laterali sono pensate per alcuni tipi di moto più touring mentre queste che vediamo possono essere anche se una moto super sportiva un R1 non ho possibilità di avere borse laterali voglio fare una gita di un giorno posso portarmi queste due borse purtroppo tutto ciò che richiede un telaietto diventa poi specifico perché il telaietto è studiato in maniera specifica per una moto tutto il resto che vedi montato sulla moto e anche qualcosa che è nascosto dietro è puramente universale poi anche su una moto super sportiva non avrebbe neanche senso rimontare dei telaietti perché i codini sono talmente rastremati che sarebbe difficile posizionarli quindi perfetto e poi abbiamo la borsa da serbatoio questa è l'ST611 introdotta da quest'anno prenderà il posto dall'ST602 che ormai è diventata uno standard nella nostra collezione con l'occasione abbiamo rivisto le linee che in questo caso diventano molto più accentuate molto più affilate e anche alcuni accorgimenti tecnico funzionali come per esempio la copertina superiore per il cellulare il modello precedente prevedeva di dover aprire il coperchio per inserire il cellulare in questo caso invece l'apertura è dall'esterno infatti stavo dicendo che prima a telecamere spente stavo un po' sbirciando sui prodotti per prepararmi apprezzo davvero questa cosa perché come tutti avranno provato con l'accesso dalla cerniera principale e mi è capitato anche questa mattina che ero in viaggio con una borsa della concorrenza infatti mi ha già richiamato il problema era proprio questo la borsa era carica con tutte le mie accessorie tra l'altro le penne, i tacquini perché dovevo prendermi anche degli appunti la GoPro, altre varie chiavi del garage per accedere poi allo sportello dove avevo il telefono e il bigliettino dell'autostrada ho dovuto comunque aprire con il rischio che mi cade qualcosa al casello insomma è sempre un problema invece in questo caso vedete davvero molto molto pratica e veloce poi ormai tutti i telefoni resistono anche bene all'acqua quindi... sì chiaramente la borsa è dotata di copertina antiacqua nel caso di pioggia che è sempre contenuta esattamente perfetto ho anche le cinghiole per portarla bella la rete di contenimento anche in questo caso la finitura come sempre le impunture rosse gli interni rossi per richiamare la linea sport sempre le zip è già predisposta per un eventuale cavo di alimentazione esterno molto molto ben realizzata bravi anche questa tra l'altro posso fare il processo opposto spostarla sul codino senza nessun problema il sistema Tanklock è lo stesso il fondello è piatto in entrambi i modelli questo permette di intercambiare i modelli uno con l'altro però mi avevi detto che avrei dovuto fare la valletta esatto quindi faccio scegliere a te la borsa dalla quale preferisci cominciare io partirei da questa perché abbiamo detto che avevamo tre sorprese per i nostri appassionati che ci stanno seguendo da casa eccola qua borsa un po' più capiente sempre per la seduta giusto? esattamente questa è una borsa da sella la ST607 nasce come borsa da sella universale quindi è dotata di doppi anelli su quattro angolari con le quattro cinghie universali è una fettuccina universale che permette di agganciare la borsa ovunque ha la copertina antiacqua nascosta nella zip che tu stai aprendo e la copertina antiacqua in questo caso è cucita all'interno della borsa con un elastico quindi si evita di perderla ah ok perfetto anche questa è una cortezza facciamola vedere adesso cerchiamo di tirarla fuori eccola ha il suo elastico che la tiene agganciata al corpo della borsa che è un altro problema di alcune coperture che poi non riesco mai ad agganciarla se l'aggancio c'è anche il rischio se entra nell'aria esattamente si gonfia e la prendi in questo caso non si ha più questo problema anche in questo caso i materiali sono esattamente gli stessi è sempre lo stesso materiale ricordo si chiama Eva è una spugna termoformata che ci permette di avere queste finiture molto nette sempre le zip che richiamano la linea sport la vediamo dentro così magari riusciamo a vedete quanto è capiente ovviamente questa è davvero anche questa è leggermente espandibile sempre dotata chiaramente di copertina antiacqua in caso di pioggia secondo prodotto, seconda sorpresa scendiamo di formato un po' più piccolino il borsello da gamba in tanti sempre più non può mancare il borsello da gamba stando attenti sempre all'estetica quindi è un borsello da gamba della linea sport sempre gli stessi materiali con la zipettina perimetrale che permette di avere il pieno accesso quindi non è soltanto la zip superiore ma permette di avere pieno accesso al contenuto ha un flap di ritenzione che evita che la borsa che il borsello si apra troppo si può chiaramente anche con il velcro tra l'altro e anche la copertina antiacqua eccola qua e poi anche la sua bella copertina quindi davvero non le manca niente con la forma come dicevi giustamente te che richiama molto gli altri accessori degli altri borse della linea sport e poi per concludere lo zainetto bravo sai che sono appassionato di zaini lo zaino non può mai mancare anche se come consigliamo sempre per lunghi viaggi è sempre più indicato avere le borse vincolate alla moto e non alla schiena però questa per andare al lavoro per la piccola trasferta anche di tutti i giorni è davvero perfetto tra l'altro con un bellissimo design che riprende ovviamente questa linea di borse forse è quella che veramente è stata quella che presta più cura all'attenzione nel dettaglio dalla zip all'impuntura agli interni colorati alla finitura termoformata gli spallacci la parte in mesh sulla schiena che è comoda la tasca per il laptop è uno zainetto proprio dedicato a questo tipo di vediamo eccolo qua così lo facciamo vedere all'interno questa è davvero perfetta per chi fa anche il nostro lavoro che magari ha anche una macchina fotografica una piccola attrezzaturina o anche come tutti gli appassionati che noi hanno la GoPro una Sean Cam e poi posso metterci anche il mio computer e andarci al lavoro perfetto e poi ovviamente abbiamo qua davanti la Z650 con qualche piccolo accessorio perché come diciamo sempre Givi nasce come produttore anche di accessori quindi sicuramente anche per la Z650 sicuramente non dimentichiamo il cupolino per questo tipo di moto produciamo sempre queste unghiette che sono più che altro estetiche ma deviano anche leggermente il flusso dell'aria abbiamo sempre qualche il muro dietro di noi ci suggerisce accessori supplementari come per esempio il deflettore lo Shield S180T di cui abbiamo parlato anche l'altra volta che è un deflettore che si può agganciare in punta a qualsiasi tipo di cupolino per aumentare la protezione all'aria e poi chiaramente guardando il lato della moto uno degli accessori che forse meglio rappresentano questa tipologia di motociclette sono i nostri slider i nostri slider rispondono all'esigenza di avere una protezione sul lato della moto ma ottimizzando anche l'estetica in questo caso noi lavoriamo con diverse tipologie di materiale abbiamo l'alluminio nodizzato che riprende la colorazione della moto abbiamo diverse colorazioni il verde è perfetto per Kawasaki la parte principale in una gomma è molto resistente ma che allo stesso tempo annulla quasi completamente l'attrito altrimenti si perderebbe la funzionalità dell'accessorio stesso e una placchettina che riporta il logo della nostra azienda chiaramente l'accessorio è pressoché universale ci saranno dei kit di fissaggio specifici per abbinare lo slider alla moto in questione perfetto Antonio direi che abbiamo detto praticamente tutto per il resto invitiamo poi i nostri amici a visitare il sito dove troveranno gli altri accessori adesso direi di passare alla seconda moto dedicata sempre alla linea sport touring diciamo esattamente non vedo l'ora Antonio sai che mi piace prepararmi prima dei servizi allora ho studiato quindi permettimi di presentare la famiglia più numerosa che è quella touring composta da tre linee abbiamo la linea in diciamo alluminio quindi rigida poi abbiamo sempre la linea rigida ma prodotta in abs e poi abbiamo la famiglia morbida quindi soffici ancor più pratiche però adesso a te la parola presentiamole perché ci sono tante chicche interessanti pensate proprio per chi fa turismo e usa anche la moto perché no poi tutti i giorni come sempre sei stato bravo ti sei preparato bene se per le altre moto mi ero dovuto limitare sulla scelta dei modelli qui mi sono dovuto proprio violentare perché come sai la linea turistica è quella che ci accompagna dagli ultimi 40 anni e ho dovuto selezionare soltanto alcuni prodotti che chiaramente fanno parte delle novità mi preme soprattutto parlare delle valigie in alluminio che generalmente vengono associate al mondo adventure infatti per il mondo adventure abbiamo la linea Outback di cui abbiamo parlato l'ultima volta la linea Alaska che è la valigia le valigie che vedi montate su questa moto nascono proprio per diverse esigenze estetiche e funzionali è la nostra linea entry level ma anche in questo caso vorrei aprire una piccola parentesi perché in Givi entry level non significa mai prendere un prodotto e privarlo di tecnicismi o privarlo di qualità o economico economico è vietato è vietato nella nostra gamma è proprio un prodotto che è studiato con delle altre esigenze l'alluminio è lo stesso delle Outback è sempre un alluminio naturale da un millimetro e mezzo gli stessi rivetti che riportano sempre una guarnizione per evitare che l'acqua possa entrare termoplastiche di altissima resistenza però tutto questo sviluppato con una linea di assemblaggio che ci ha permesso di ottimizzare tantissimo i costi di produzione e quindi tradotto poi alla fine costa anche meno ma non perché è la qualità inferiore ma perché è stato affinato il processo produttivo è solo questo perché in realtà il prodotto ha grandissime caratteristiche tecniche e anche alcune particolarità che poi ci hanno anche suggerito di rivedere la linea Outback che i nostri clienti conoscono già da tanto tempo allora esteticamente come si vede la linea Alaska è molto più compatta rispetto alle Outback anche esteticamente abbiamo voluto dargli un aspetto più compatto sicuramente più rapportato al mondo touring abbiamo rimosso gli angolari dal coperchio abbiamo implementato gli angolari i passacing diciamo negli angolari della valigia il sistema di sgancio è sempre funzionante e comandato dalla chiave security lock che comanda una leva di sgancio che attua in realtà un cavo di acciaio che corre all'interno della cornice della valigia muove il catenaccio e fa sganciare la valigia come si vede in questo caso la valigia resta agganciata al telaio leggermente angolata la lasca la valigia lasca ci ha suggerito di implementare questo nuovo sistema che è nient'altro esattamente è un gancio in nylon che permette di far come vedete ha un sistema molla che muove la levetta in automatico e permette alla valigia di basculare sul telaio e di agganciarsi in autonomia al telaio laterale della moto e questo vi permette di poter aprire il coperchio anche in presenza di un eventuale bauletto centrale molto ingombrante senza fare interferenza nel fondo tra l'altro idea geniale perché il problema quando hai il bauletto molto grosso con anche magari posizionati sopra delle altre cose aprirlo diventa praticamente impossibile devi sganciare la borsa aprirla e poi riposizionarla e se la borsa è piena diventa anche un po' pesante e poco pratico questo tra l'altro è un sistema patentato ed è forse una delle idee che maggiormente poi ha favorito al successo di questa valigia che è stata lanciata a maggio di quest'anno altre piccole particolarità che sicuramente faranno piacere ai nostri clienti sono l'assenza delle cordine di apertura che innanzitutto permettono al coperchio di apirsi di più quindi di accedere allo spazio altrimenti si fermava a 90 gradi poco più di 90 gradi il problema era quando la moto era parcheggiata in discesa o in salita e alcune volte i clienti rischiavano di chiudersi le dita all'interno del coperchio la famosa ghigliottina che tutti avremmo provato esattamente esattamente le valigie Alaska sono vendute in coppia da 36 litri in questo caso in colorazione nera ma continuiamo sempre con l'alluminio naturale che probabilmente è quello che ancora più piace delle valigie di alluminio senti però abbiamo parlato di bauletti e tra l'altro hai lasciato stranamente uno spazio vuoto e non è da te perché se tu potessi è tutto voluto è tutto voluto chiaramente era per creare un po' di suspense la valigia Alaska come dicevo è stata lanciata in configurazione laterale a maggio di quest'anno tantissimi ci stanno chiedendo il bauletto centrale abbiamo lasciato la piastra centrale appositamente vuota per ricordare ai nostri clienti che presto presenteremo anche un top case di questa gamma ma non voglio dire non voglio dire di più certo senti a proposito di bauletti di borse come giustamente ricordato tu all'inizio ci sono più linee più famiglie tra l'altro ci sono anche degli ibridi quindi c'è alluminio plastica plastica volgarmente detta plastica quindi ci sono non soltanto quello che vediamo come giustamente hai detto te prima ma poi invitiamo tutti ad andare a visitare il sito perché ci sono altri prodotti anche molto particolari interessanti spostandoci sulla linea centrale della moto arriviamo alle borse morbide che sai che apprezzo sempre perché sono molto più pratiche anche facilmente ma rimpacchettabili o riposizionabili anche nell'armadio in altri spazi del garage cosa troviamo cosa può essere utilizzato per fare del touring in questo mondo nel mondo touring per quanto riguarda le borse soffice abbiamo una linea dedicata che si chiama Ultima T la linea Ultima T è caratterizzata da materiali di altissima qualità meccanica e tecnica in questo caso utilizziamo poliestere 1200D un poliestere molto tenace tra l'altro ha un trattamento anti-UV che lo fa resistere a migliaia di ore di esposizioni ai raggi solari un'altra particolarità di queste borse è che nonostante il tessuto esterno sia poliestere quindi si possa bagnare proprio per la struttura stessa del poliestere tutte le borse sono dotate di questa sacchetta antiacqua chiaramente la sacchetta antiacqua è estraibile con queste quattro fibbiattine in modo che in questo caso questa è una borsa da sella l'auti 813 la borsa si aggancia sulla sella io non la voglio agganciata adesso per comodità adesso farvela vedere avrà quattro cinghie universali che permettono di fissarla sulla sella e il sacchettino interno si può sganciare facilmente ed è completamente impermeabile quindi può diventare davvero una piccola sacca porta oggetti che stacco e posso lasciare questa sulla moto e andarmene via tranquillo elastici per posizionare guanti o piccoli oggetti anche questa può essere può essere aumentato il volume giusto? esatto le cinghie poi la sua bella nel caso maniglia per essere portata in giro spostandoci poi per aumentare ancora di più la capacità di carico qui abbiamo la UT809 che è una delle due borse da serbatoio che fanno parte di questa gamma che utilizza sempre gli stessi materiali quindi lo stesso concetto poliestere 1200D anti-UV tanto io la apro e qui usiamo la copertina antiacqua sempre estraibile e sempre interna quindi la copertina antiacqua è una costante di tutta questa gamma in più la gamma ultima prevede il sistema tank lock che ormai già tutti conoscono che è il più però faccelo vedere per chi magari non l'ha ancora visto il sistema tank prevede semplicemente un meccanismo con un grilletto che permette alla borsa di sganciarsi rapidamente grazie a questo meccanismo e a questa flange che a seconda delle moto può avere una forma diversa in questo caso abbiamo dovuto spostarla solitamente ci fissiamo sulle viti della ghiera del serbatoio in questo caso lo spazio del manubrio era troppo poco e anche la forma del serbatoio non aiuta altra cosa molto importante nella linea ultima è il tank lock con la chiave perché altrimenti chiunque potrebbe arrivare lì questo è un plus chiaramente della linea ultima che essendo una linea che ha tutte queste particolarità tecniche abbiamo voluto arricchirla ancora di più col tank lock con la chiave mentre la nostra linea entry level la nostra linea easy dedicata al mondo urban è dotata del sistema tank lock standard senza la chiave senti poi vedo altre piccole chicche quindi ci sono i ganci ci sono altri ganci superiori c'è la possibilità di far uscire eventuale filo per alimentare smartphone navigatori o quant'altro e poi ovviamente la bravo che non manca non deve mancare mai ormai la cartina non la posizionerà più nessuno però magari qualche indicazione qualche il biglietto d'autostrada il telefono perché no e poi anche in questo caso abbiamo due piccoli passaggi per posizionare altri piccoli oggetti e le tasche laterali tra l'altro si posa bene anche con questa moto che non è facile perché come potete vedere è una moto un po' particolare ma questa forma sicuramente la rende nonostante la capienza che sono 20 litri comunque poco invasiva e disturba poco chi segue molto la forma e anche durante la guida non è troppo non è troppo fastidiosa avete visto anche la facilità di posizionamento il sistema tank lock veramente fonda la sua fatto è davvero incredibile poi ovviamente come diciamo sempre Givi è da sempre maestra nella produzione di accessori per moto e quindi anche su questa ondina 500 abbiamo qualche chicca interessante per arricchire la moto sicuramente telai per le valigie laterali il supporto per la piastra in questo caso abbiamo montato una piastra una piastra M5 con la nostra piastra in nylon ricordo che Givi non solo è attenta alle valigie e per Givi il telaio e la piastra non sono un semplice mezzo per fissare il bauletto ma Givi offre la possibilità di avere fino a 6 piastre differenti per finiture per materiali quindi si può avere la piastra in nylon con finiture più o meno moderne due diverse piastre in alluminio più o meno moderne la M8 e la M9 quindi anche la piastra diventa accessorio non è soltanto un mezzo per agganciare il bauletto sì anche perché poi una volta che non c'è il bauletto anche lei è sotto l'occhio diventa parte estetica della moto poi chiaramente come sempre abbiamo l'estensione dalla base del cavalletto che è uno di quegli accessorietti molto interessanti sia perché ha un prezzo super accessibile ma anche perché è funzionale e anche estetico chiaramente la nostra famiglia di prodotti forse è una delle più famose i paramotori ricordo che il primo prodotto della Givi nel 1978 era proprio un paramotore e non era un bauletto poi chiaramente il paramani in ABS la flange di cui abbiamo parlato prima il cupolino alto trasparente in questo caso e la moto così non è neanche completamente accessoriata ma non ho voluto non ho voluto esagerare per questa volta ah ecco anche il para spruzzi posteriore centrale che è anche questo di recente produzione e ricordo ne abbiamo di due formati differenti questo è il RM02 in nylon fibra di vetro con una texture finto carbonio altrimenti ne abbiamo uno standard è una in ABS molto più semplice meno estetico rispetto a questo diciamo che praticamente abbiamo detto tutto non andrei oltre in realtà abbiamo tralasciato un piccolo dettaglio che non è su questa moto ma io avrei voluto mettere altre tre moto in questo caso però non mi hai lasciato neanche questa volta quindi il nostro compromesso è stato mettere un espositore e tre valigie visto che stiamo parlando di prodotti per il turismo anche quest'anno abbiamo introdotto una nuova gamma di bauletti che si affianca alle altre già numerose famiglie di bauletti abbiamo i bauletti in alluminio i bauletti in plastica i bauletti ibridi che nominavi prima che è la nostra famiglia Trekker e quest'anno abbiamo introdotto anche una quarta famiglia di bauletti che sono bauletti in ABS ABS termoformato non iniezione come già utilizziamo nelle nostre famiglie dei bauletti di plastica sostanzialmente lo stesso materiale dei trolley d'aereo perché sono utili questi bauletti questi bauletti sono utili perché diciamo ottimizzano ottimizzano le caratteristiche dei bauletti rigidi in plastica e delle borse soffici sono leggeri sono resistenti ma sono dotati dell'aggancio proprio dei bauletti di plastica la famiglia weightless dal nome senza peso io ti sfido veramente a provare a sollevare un bauletto è leggerissimo leggerissimo ma allo stesso tempo resistente non soltanto agli urti ma anche ai graffi questa struttura diamantata dell'ABS evita qualsiasi tipo di graffio beh come giustamente dicevi come sui trolley da viaggio devono resistere al trasporto in aereo giustissimo così ancora di più nella moto tra l'altro bravi perché avete previsto anche sempre mutuata penso dai trolley la possibilità di chiudere la cerniera così se lasciamo che la moto è incustodita per qualche attimo vedete che possiamo chiudere le due cerniere con la combinazione quindi sono diciamo tranquillo oltre ovviamente ad avere la chiusura sulla moto la famiglia Weightless come dicevo è formata da due prodotti distinti ma già stiamo lavorando a un'espansione della gamma perché stiamo vedendo avere molto successo ci sono le valigie laterali WL900 dotate di sistema monochie e questo è importantissimo quindi il sistema monochie come dicevamo prima ormai diffusissimo negli ultimi 40 anni che come abbiamo accennato anche poc'anzi mi permette di utilizzare anche borse datate e non solo questo il sistema monochie ad oggi è diventato un sistema trasversale perché non è più solo per le borse in plastica ma lo troviamo sulle Alaska abbiamo visto prima quindi sull'alluminio sulle Weightless quindi in ABS ma l'abbiamo visto anche sulle borse soffici della linea touring lo troveremo anche di nuovo sulle valigie Dolomiti che sono un'altra famiglia di alluminio quindi è un sistema trasversale che permette al cliente di configurare la sua moto chiaramente una moto avrà una sua attitude ma nessuno ci vieta di avere prodotti caffè racer su una BMW magari ho 2-3 moto e quindi posso anche spostare le borse ed è una dichiarazione implicita della estrema durata dei prodotti perché se possiamo montare borsa anche di 20 anni fa vuol dire che implicitamente la borsa dura fino a 20 anni bravi bella idea quindi laterali 25 litri e per chiudere il WL901 che è il nostro bauletto centrale di questa linea espandibile da 29 a 34 litri come la forma del guscio esterno suggerisce è possibile caricare un casco modulare chiaramente in posizione centrale è espandibile come dicevo con questo soffietto la parte interna è foderata per questioni estetiche e tutte queste borse sono dotate non solo di una copertina ma proprio di un sacchetto impermeabile anche questo è un accessorio comodissimo che vi permette di lasciare la borsa il bauletto in questo caso sulla moto e di portare via soltanto il contenuto di proteggerlo dagli eventi atmosferici ma anche di poi di portarselo con sé se mi allontano dalla moto bravi quindi adesso adesso abbiamo praticamente veramente concluso e per questo però visto che abbiamo giustamente ricordato che la gamma non è infinita ma quasi vi consigliamo di andare a visitare il sito di Givi www.givi.it bravissimo dove trovate tutti questi accessori che vi abbiamo mostrato le descrizioni tecniche insomma tanti contenuti che magari approfondiscono anche di più seguite la pagina social di Givi continuate a seguirci sui nostri canali quindi facebook instagram maurizio vetro power moto.it automoto.it ancora la pagina instagram di Givi costantemente aggiornata di nuovi prodotti e poi la nostra pagina youtube grazie di essere stati qui con noi se avete le domande scriveteci o rispondo io risponde lui meglio lui perché lui è super sul pezzo è sempre informatissimo quindi scriveteci ci vediamo alla prossima adesso però ci prepariamo perché va bene stare qua ad escrivere il prodotto però noi vogliamo provarlo e fare anche noi del turismo capiamo quale borsa montare sulla moto che abbiamo qui fuori e si parte per un viaggetto e ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao a tutti